Oltre 5 milioni di euro di risparmio. Il Consiglio regionale del Piemonte chiude il bilancio del 2011 in netto positivo. Un traguardo doppio sia perché significa aver saputo snellire la macchina amministrativa regionale, sia perché con i soldi risparmiati verranno finanziate, con la mediazione della Giunta, le borse di studio universitarie dell'Edisu, quest'anno in parte tagliate per mancanza di fondi. Abbiamo anche introdotto la firma elettronica per i consiglieri, la cosiddetta indennità di presenza, e commisurata esattamente al tempo lavorato da parte dei consiglieri sia in commissione che in aula. Ma il 2011 è stato anche l'anno in cui il Consiglio regionale ha aperto al web 2.0, non solo con il rifacimento del sito istituzionale, ma anche con l'integrazione con i principali social network come Twitter e Facebook. Novità utili ha rimarcato Cattaneo a colmare la distanza fra cittadini e pubblica amministrazione, come anche la possibilità di seguire in diretta le sedute del Consiglio attraverso lo streaming video, acquisire gli interventi dei singoli consiglieri o nell'apposita sezione denominata Trasparenza, controllare le presenze in aula degli eletti, confrontando stipendi, innennità e assenza del personale. Molto attivi nel 2011 anche i comitati e le consulte regionali. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha promosso la nuova edizione del concorso di storia contemporanea e il nuovo calendario dei viaggi della memoria. La consulta femminile ha usato il linguaggio artistico e cinematografico per sensibilizzare sui temi relativi all'integrazione. La consulta dei giovani ha realizzato una campagna spot sulla sicurezza stradale. L'osservatorio sull'usura ha proseguito i progetti per realizzare il microcredito in Piemonte. Infine la consulta europea ha tenuto corsi di aggiornamento per insegnanti e organizzato un concorso per portare gli alunni delle scuole superiori a visitare le sedi delle istituzioni europee. Abbiamo cercato di ridurre di molto i costi delle attività della consulta europea come Presidente mi sono impegnato su questo campo cercando però di garantire anzi un incentivo delle attività su quel tipo di attività della consulta che è rivolto direttamente ai più giovani.